Ti vanno a lanciare una sfocaccione a dieci! A chi fanno capire una cosa? Secondo te pure, ma io non mi avessi portato né mancarota pesce! Ti avevo detto una valigia, una! L'accordo è finalizzato al ritrovamento e all'uccisione e prevede la più totale e leale collaborazione. Voi ci dovete nascondere, bello e buon pomeriggio, in un ristorante! E' programma, ma qual è il problema? Essendo questo casale un bene sequestrato alla camorra, è preferibile che abbia una destinazione d'uso per attività sociali. Ma c'è una settimana nostra! Dobbiamo fare la storia! Romolo non mi ha bombito, tutti gli ostili, manco il cazzo! Perché ora leggere non piace? Ha cacciato una nuova vita, ha cacciato! Non va bene, papà! Aspettare, un giorno ha chiuso la porta? No! Posso? No! Ha fatto buon volo? No! Cucina Mippo Napoletana! Oh! Oh! Come sto? Novo tazzello intuffato con fracca! Abbiamo un niggiri alla pizzaiola! Niggiri! Abbiamo un sascini alla scapece! Vecca mamba! La mamba nera! Ma chi è? Una ballerina? Una spoggiarellista? È il killer più spietato che esiste! Una mai lasciata sovravvissuta! Buon viaggio! Vi ho detto che dovete stare tutti insieme! Siete tutti sulla stessa barca! Solo insieme vi potete salvare! È chiaro? Ciccicciate voi! Devi parlare gioffiato! Passo e chiuso!